Ciao fragoline, nuovo video richiesto da voi. Molte persone volevano che facevo ancora il video dove vi faccio vedere gli acquisti che di solito ogni tanto compro da Mazzizzò o altri negozi per gli animali. Per cui questa volta, dato che mi servivano un po' di cose, pochissime però, io ho prese sia per il mio cane che sia per i miei conigli. Per cui questa volta sono andata da Mazzizzò e vi faccio vedere praticamente cosa ho preso. Prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così non perdete neanche un solo video in cui io pubblico. Facciamo così, così almeno si vede meglio. Scusate ma non c'è il sole e sta piovendo. Poi se volete seguirmi su Instagram vi aspetto lì che vedete tutte le foto anche dei miei animali. Per chi si è iscritto adesso e per chi non lo sa, che mi segue da poco, io ho quattro conigli e un cane. E adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato. E in più lasciatemi un like e un commentino qua sotto. Allora, iniziamo. Ho preso, vi dico anche i prezzi. Che così almeno vediamo se riesco a prendere lo scontrino. Vi dico anche i prezzi. Allora, questo è lo scontrino. Sembra chissà quanto ma alla fine ho preso pochissime cose. Ho speso 33,26 euro. Ho preso questi tappetini per il mio cane a 17,89 euro. Questi qua. Io sto provando tantissimi pannolini per il mio cane. Dato che lei è femmina e quando io non ci sono in casa e non posso ovviamente portarla giù, gli lascio il pannolino in casa così almeno se lei gli scappa praticamente li fa in casa. Ho preso questi qui che sono 50 pannolini da 60x60. Questi non li ho ancora provati, li volevo provare. Invece gli altri se non mi sbaglio ve li avevo fatti vedere nell'altro video che avevo registrato. Comunque questi sono i pannolini. Diciamo che i pannolini costano, come Dio la comanda, per cui sono un po' troppo costosi. Però a me servono per il mio cane. Poi, prima vi faccio vedere quello che ho comprato al mio cane e poi vi faccio vedere quello che ho comprato per i miei conigli. Per il mio cane, dato che fa il compleanno, lei fa i nove anni il 18 di agosto. Questo video non so se lo vedete prima, non so se lo vedete a settembre. Comunque, dato che il mio cane fa gli anni, fa i nove anni, in pratica io ho preso una tortina a posto per i cani e volevo festeggiare il compleanno, per modo di dire. E allora io ho preso anche due giocattoli. Il primo giocattolo è questo qua, perché aveva la corda ma l'ha rotta tutta. Allora io ho preso questa corda qua, la corda l'ho pagata, se non mi sbaglio, adesso ve lo dico, dovrebbe essere 3 euro. Ah no, scusate, allora gioco corda, 99 centesimi. Questo l'ho pagato 99 centesimi, è piccolissimo, infatti in teoria per lei dovrei prendere quello più grande, però vabbè. E poi io ho preso il pollo, che il pollo è costato, che è questo qua, 3,39 euro. Sì, 3,39 euro, 4 euro più o meno. Questo è il pollo, che ovviamente suona, però se suono io adesso lei viene su e poi lo vuole, per cui direi che è meglio non farlo suonare, perché se lo faccio suonare va a finire che lei viene su, mi rompe le scatole e poi quando lo vuole sono a casa. Per cui è meglio che non lo faccia suonare. Comunque questo qua è praticamente di gomma. A lei piace tutti i giochi che suonano, ne va pazza. Durerà neanche due minuti questo gioco qua, però vabbè, per 3 euro, chi se ne frega, l'importante è che si diverte, che è contenta. E dura poco, perché il mio cane rompe tutto e di più. Allora, vediamo se ho altre cose. No, 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 niente. Queste sono state le tre cose che ho preso per il mio cane. Invece, per i miei conigli, ho preso questi snack a forma di balle, di balle, non lo so, di palle, non so per cosa, vabbè, lasciamo perdere. Questi sono alle verdure, praticamente alla carota, c'è dentro di tutto e di più. Non l'ho mai presi, è la prima volta che li prendo, li volevo provare. E questi qua, adesso vediamo se riesco a trovarli. Mi sembra... 3,59 euro. 3,59 euro, questi qua. Allora, queste cose che vi faccio vedere, non le compro sempre, le compro una volta al mese, tanto per provargli, tanto per dargli qualcosina, qualche snack, qualcosa e basta. Per cui i miei conigli non mangiano queste cose qua, mangiano solo una volta e basta. Vorrei precisare queste cose qua, prima che poi, sotto nei commenti, certe persone non si fanno i cavoli loro e dicono tante di quelle cose che non sanno niente sui miei conigli e non sanno niente di me. Prima, per cui volevo precisare anche queste. Poi gli ho preso le carote, queste qua fatte così, tipo biscotto duro. Le carote, mi sembra, mi sembra 2,16 euro. No, 2,59 euro. Scusate, 2,59 euro questi qua. Ce ne sono dentro, mi sembra... Non c'è scritto, bene. Sono 50 grammi. Io ne do uno a... Cioè, dato che ne ho 4 di conigli, gliene do uno a ciascuno. Perché ci sono certe confezioni che praticamente ne trovi 3 dentro. Dipende di quale prendi. Queste invece sono di più e vanno bene, diciamo, per tutte e quattro i conigli. Poi, l'ultima cosa, io ho preso queste banane a forma... Cioè, questo qua ha la banana. Perché il mio coniglio ne va pazzo. Praticamente sono banane chips. Il mio coniglio ne va pazzo di queste cose qua. Infatti, questo lo prendo una volta e basta. Tanto per farlo contento. Dato che Fiocco piace un casino queste banane qua, allora ogni tanto gliele prendo. Però ogni tanto non... Preferisco non farlo... Cioè, contento sempre perché ogni volta che lo faccio contento, dopo lui ne va... Cioè, ne va matto di queste cose qua. Allora, è meglio che do una regolata e non lo faccio mangiare. Che poi alla fine non è che li mangia. Questi sono solo premi che gli do... Gli ne do uno al giorno. Cioè, uno al giorno come se do il biscotto al mio cane, praticamente. Ma neanche uno al giorno, perché glielo do una volta a settimana, per farvi capire. Cioè, neanche uno al giorno. Dipende... Non so, dipende cosa gli do da mangiare. Se gli do da mangiare la frutta... La frutta, volevo dirgli la verdura. Se gli do la verdura, ogni tanto uno, solo uno, glielo do e basta. Non esagerò mai. Anche perché questi qua, dopo un po' fanno male. Per cui, glielo do solo una volta. E, ovviamente, queste sono state le cose che ho preso. Questi sono solo... Ripeto, sono solo snack. Qualche premio che do ai miei conigli ogni tanto, non sempre. I miei conigli mangiano solo verdura, fieno e pallet. Ovviamente, dipende dal coniglio. Per cui, ci sono certi conigli che mangiano solo verdura e fieno. Invece, i miei conigli, dato che l'ho viziati troppo, mangiano anche il pallet e ogni tanto queste merendine qua. Io le chiamo così. Ah, quello della banana, mi sembra che ve l'ho detto il prezzo, non mi ricordo. Dovrebbe essere 2,16 euro. Perché tre cose erano scontate. In totale, ho speso 33,26 euro. Dato che il pallet e il fieno ce l'ho già, perché ho preso 25 kg di fieno e 25 kg di pallet, diciamo che ce l'ho ancora, e non ho bisogno di andarle a prendere. Quando mi finisce il fieno, andrò a comprarlo. Però, per il momento, io ho preso questi qua. E poi, per farvi capire, io nei negozi degli animali ci vado solo una volta al mese. Tranne quello per il mio cane. Perché il mio cane ci vado quasi sempre. Dato che lui, cioè, dato che lei mangia tanto, i pannolini vanno e vengono. Cioè, e allora... Ah, in più mia mamma ha preso tre cose. Gli ha preso gli snack, quelli a bastoncino per il mio cane, che l'ha pagati 2,16 euro. Poi gli ha preso il mangiare monge, quello tipo al salmone, dove tu lo metti nelle crocchette. Quello lì l'ho pagato 55 centesimi. E poi ha preso gli stick, che se non sbaglio è sempre il mangiare, però ha preso l'anatra, se non mi sbaglio. E quelli l'ha pagati 1,35 euro. È una vaschetta dove tu poi, dopo, diciamo, la metti nelle crocchette. Gli ha preso l'anatra e il salmone. Per cui, praticamente, in totale sono 33,26 euro. Perché poi, dopo, mi dimentico e dico, ma con tutte queste poche cose, come ha fatto a spendere così tanto? Invece no, mancavano quelle due cose, ma dato che mia mamma gliel'ha già dati, gliel'ha già fatti mangiare, praticamente, ho detto, è inutile che ve li faccio vedere, perché tanto ormai l'ha presi. E niente, queste sono state le cose che ho preso. Fatemi sapere se volete altri video come questi, dove vi mostro le cose che compro per gli animali. Preferite quello dove vi faccio vedere gli acquisti solo per i miei conigli? O preferite anche gli acquisti tra, in poche parole, il mio cane e i miei conigli? Cioè, tutti gli animali che ho. Fatemelo sapere sotto. Ho parlato anche fin troppo, perché 14 minuti è anche tanto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, mettere un bel mi piace e un commentino qua sotto. Fatemi sapere se anche voi avete conigli, animali, eccetera, e cosa gli date da mangiare. I commenti negativi verranno cancellati perché voi non sapete niente di me e, ripeto, dei miei conigli, di come vivono, eccetera. Per cui, non scrivete cose che non mi piacciono e cose che voi non potete sapere di quello che faccio. E spero che mi sono fatta capire. Per cui, i commenti negativi verranno tutti cancellati e neanche messi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!